Nuova patch per PES e nuove offerte speciali sul sito di Eneba, 15% di cashback solo per prodotti selezionati, come sempre ragazzi mi raccomando, per maggiore info, link in descrizione. Signori ci siamo, una nuova patch aggiornata al calcio mercato invernale della stagione 2023-2024, sempre qui sul forum di PESTEAM.it Come sempre, prima di iniziare, un grosso nome grazie ai ragazzi di PESTEAM che continuano, nonostante tutto, nonostante ormai veramente siano passati tantissimi anni dall'uscita di PES 2021, sempre qui con nuove patch, con nuovi contenuti che a noi permettono di goderci ancora una volta, per l'ennesima volta, l'esperienza di poter giocare a PES 2021 con le rose aggiornate. Per una precisazione molto importante, importantissima, dimenticatevi delle precedenti patch portate in questa edizione, in questa stagione. Questi hanno portato due patch di Kimi che riguardano però la sessione estiva di calcio mercato, riguardano le squadre italiane e diverse squadre europee. E come ben sapete, quando abbiamo a che fare con quella tipologia di patch, il grosso problema è la non possibilità di poter avere tutte le divise di tutte le squadre di serie A e serie B. Il problema naturalmente non è di chi le fa, ma è di PES, che comunque ci limita al caricamento di un determinato numero di file. Ma soprattutto è più un problema legato alle licenze, quindi squadre totalmente licenziate da PES, come ben sappiamo, non possono essere modificate nei loghi e nelle divise. Un esempio è la Juventus, dove la maglia home, quella aggiornata della stagione 23-24, è disponibile solamente come quarta divisa. Discorso invece diverso per le squadre non licenziate, dove abbiamo la prima, la seconda e la terza. Questa è una patch nuova. Questa è una patch che è dedicata, come da titolo, alla serie A e alla serie B. Non è quindi compatibile con la patch classica. Ho già fatto diverse prove, ho già fatto diversi test e purtroppo non vengono mantenute le modifiche. Quello che vedete riportato a sinistra è la lista di tutto ciò che è presente all'interno di questa patch. Aggiornata poi recentemente all'edizione invernale di Calcio Mercato. Qui ragazzi sta a voi scegliere, perché se volete godervi l'esperienza di poter giocare con le squadre di A e di B aggiornate, poi all'ultima edizione di Calcio Mercato, con tutte le divise aggiornate della stagione 23-24, questa patch fa il caso vostro. Vi lascio qui in alto nelle schede il video su come poter effettuare una pulizia completa, soprattutto per chi è da console. Vi ricordo ancora una volta che questa patch non è compatibile con quelle portate precedentemente. Quindi per questo vi sto parlando di pulizia totale. Anche se quando entreremo all'interno di PES potremmo diciamo lo stesso pulire il gioco senza dover per forza di cose effettuare poi una pulizia completa. Qui abbiamo l'edizione uscita a novembre e poi l'edizione uscita qualche giorno fa. Io che non ho nessuna delle due ho dovuto naturalmente prima prendere l'edizione classica e poi quella con le squadre aggiornate. Ricordo che per ottenere questo risultato dovete avere dei software come WinZip, WinRAR o 7Zip e quindi poi successivamente tasto destro sul vostro archivio ed estrai come Serie A, Serie B, Kits. Questo passaggio poi bisognerà ripeterlo anche per la Winter Edition ed ecco appunto che ci troviamo poi le due cartelle con all'interno poi la patch sia quella base 2324 e sia poi quella dedicata all'edizione del calcio marcato invernale. Sia per console che da PC i passaggi sono simili. Doppio clic, si va poi su Serie A, si copia la cartella WIPES. Dove va incollata? Per chi è da console naturalmente deve avere a disposizione una chiavetta che deve essere poi inserita all'interno del PC e questa cartella va incollata all'interno della vostra chiavetta. Mi raccomando deve essere libera nel senso che non deve essere all'interno di un'altra cartella. Se WIPES è all'interno di un'altra cartella il gioco non lo riconoscerà mai e quindi sicuramente avrete difficoltà poi ad inserire la patch. Quindi inserite la chiavetta, prendete la cartella WIPES e la incollate direttamente all'interno della vostra chiavetta. Se invece siete da PC mi raccomando documenti Konami PES 1021, cancellate qualora sia presente la cartella WIPES, quindi tasto destro ed elimina e successivamente tasto destro incolla. Ora che siamo su PES bisogna andare su impostazioni, modifica e successivamente import e esporta. Ora vi ho parlato di passaggi preliminari, vi ho parlato di pulizia totale. In realtà questa patch a differenza di altre porta solamente l'importazione delle squadre. Non abbiamo a che fare con un'importazione delle competizioni, quindi a livello teorico voi potreste anche semplicemente eliminare le divise e lasciar perdere poi quelli che sono stemmi competizioni, foto allenatori, immagini stadio, immagini logo sponsor. Soffermarsi eventualmente su divisa L, divisa S e stemmi delle squadre. Quindi recarsi su, ad esempio, divisa S ed eliminare, mettere la spunta su tutte le immagini. Non fate caso al numero di immagini che ho perché io ho già installato questa patch e quindi sono 181 e sono poi le divise presenti all'interno di questa patch. Se invece siete rimasti con quella di Kimi saranno sicuramente molte, molte, molte di più. Una volta fatto questo bisogna andare su Importa Squadra. Come sempre mi raccomando, qui che siate da console o da PC, il messaggio è sempre lo stesso. Assicuratevi di avere la chiavetta inserita con WePass in ben mostra. Si selezionano tutte le squadre e si va poi su Impostazioni dettagliate. Spunta su Sovrascrittura, fa l'immagine con un nome uguale. Spunta su Applica dati di giocatori e squadra e si conferma. Una volta fatto questo, prima di salvare, andiamo su Struttura Competizione. E qui è molto importante questo passaggio perché siete costretti a cambiare l'ordine, non solo perché sono sparse, ma proprio perché dovete andare a sostituire delle squadre. Se noi ad esempio andiamo sulla nostra Serie A, diciamo che ci sono squadre della Serie A, ma tutte queste squadre in realtà sono false. Le squadre soggette a modifica hanno un nome diverso, logo uguale, ma nome leggermente diverso. Qui ad esempio prendiamo la Juventus e bisogna andarla a sostituire con la vera Juventus, che è stata appunto quella modificata, che appunto ha poi al suo interno la prima, la seconda e la terza divisa, stagione 2023-2024. La Juventus in questo caso la dovremmo ritrovare esattamente nella Serie B spagnola. E quindi, selezionata la Juventus precedente, confermiamo su Juventus FC e qui poi ci ritroviamo la squadra falsa. Un consiglio che hanno dato per le squadre false, per chi appunto volesse poi partecipare alle competizioni europee, il consiglio è quello di prendere le squadre false e spostarle poi nella Liga 2 francese, quindi nella Serie B francese. E noi in questo caso abbiamo spostato la Juventus proprio nella Liga 2. Questo ragazzi è un passaggio molto molto importante, la struttura delle competizioni, diciamo che dovete perdere un po' di tempo perché naturalmente sono un po' sparse, però le distinguete facilmente. Se hanno solamente il loro nome tipo Atalanta e basta, si tratta della squadra falsa, se poi ad esempio abbiamo Atalanta FC o Atalanta Calcio, si tratta di quella vera. Una volta sistemate le competizioni, mi raccomando, assicuratevi di salvare prima di uscire. Passaggio scontato, ma fondamentale. E adesso tocca all'altra patch, la Winter Edition. Qui bisogna copiare la cartella come sempre WePass, non fate caso alla cartella qui sopra, ed esattamente come prima, se siete da PC, come sempre, documenti, Konami, PS 2021, Season Update, eliminate la cartella WePass già presente all'interno di questa cartella, quindi tasso destro ed elimina, e successivamente incollate la patch aggiornata, la Winter Edition. Tasso destro, incolla. Stesso procedimento va fatto su chiavetta. Entrate all'interno della vostra chiavetta, eliminate la cartella WePass e andate ad incollare quella nuova. E rieccoci tornati su PES, naturalmente il solito avviso dei server chiusi, non è un momentaneamente ci sono problemi, ma sono ormai definitivamente chiusi. Si va su impostazioni, si va su modifica, si attende il caricamento, e questa volta non bisogna eliminare nulla, bisogna semplicemente andare su Importa Esporta ed importare le squadre aggiornate. Quindi non avete bisogno di eliminare o fare passaggi preliminari o pulizia da zero. Qui va solamente sovrascritto tutto quello che è l'aggiornamento del calciomercato invernale. Quindi poi si seleziona tutto, si va su impostazioni dettagliate, e come sempre la doppia spunta sia su sovrascrittura e sia poi anche su applica dati giocatori a squadra. Dopo aver confermato e importato le nuove squadre, mi raccomando, salvate. Prima di salvare, però, assicuratevi come sempre che la struttura competizione sia corretta e quindi naturalmente anche l'ordine delle squadre. Una volta confermato, andiamo a verificare su calcio d'inizio se abbiamo fatto tutto correttamente. Io per comodità scelgo Fiorentina e Roma. Da una parte so che c'è Belotti, dall'altra parte so che c'è ad esempio Angeligno. Infatti qui ci troviamo sia il Gallandre Belotti sia poi il nuovo terzino sinistro della Roma. E soprattutto, a differenza delle precedenti patch, qui abbiamo tutte le divise aggiornate. La Fiorentina con la prima, con la seconda e anche con la terza. E la Roma stesso discorso, sia quella in casa, sia quella in trasferta, che tra l'altro è anche bellissima, e poi anche con la terza divisa, quella nera. Rosa aggiornate, divise aggiornate. L'unico problema è che tutto questo non riguarda poi tutti i campionati. solamente Serie A e Serie B. Ha discapito poi anche di andare a sostituire delle squadre vere e presenti poi all'interno del gioco. Patch che consiglio esclusivamente a chi è veramente appassionato solamente al campionato di Serie A e di Serie B. Per uno che invece gioca anche con altre squadre, e soprattutto poi gioca attivamente alla Master League anche con altre squadre di altri campionati, questa patch non la consiglio, perché potrebbe ritrovarsi con magari delle divise non aggiornate, anche con problemi riguardo proprio la gestione delle rose. Spero comunque di esservi stato utile. Mi raccomando ragazzi, supportate il canale di essere in corso, supportate il lavoro dei ragazzi di Pestim, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!